Una rissa fra due gruppi a Mogliano Veneto è accaduto la notte scorsa, un uomo di 30 anni del posto è rimasto ferito. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine, al loro arrivo i giovani sono fuggiti. Secondo una prima ricostruzione alcuni clienti di un bar hanno iniziato a molestare verbalmente una ragazza. Si sono formati così due gruppi, da una parte gli uomini che avevano offeso pesantemente la giovane e dall'altra i clienti che hanno cercato di prendere le difese della vittima. Dalle parole però sono passati ai fatti. Ne è nata una rissa. Quando sono arrivati sul posto i militari hanno trovato il trentenne con escoriazioni sulle mani e sul volto in compagnia di due amici rimasti illesi. L'uomo è stato medicato e identificato. Ora i carabinieri stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona nella speranza di far luce sull'esatta dinamica dell'accaduto e identificare tutti i responsabili.